Facciamo il punto sulla situazione sanitaria, naturalmente insieme al direttore generale Asle, il direttore amministrativo. Allora, abbiamo ascoltato nelle scorse ore anche alcune sollecitazioni che arrivavano dal sindacato, ma intanto qual è la situazione in questo momento? Buongiorno. Buongiorno. Oggi finalmente possiamo rilevare una significativa riduzione dei nostri ricoverati per Covid, quindi stiamo scendendo sotto i 90 ricoverati. Ricordiamo che fino a un paio di settimane fa abbiamo avuto delle punte con 140 ricoverati e abbiamo avuto anche il supporto del privato accreditato di Via Larda, dove abbiamo trasferito circa 20 persone nel momento di massimo afflusso, quindi contavamo circa 160 ricoverati tra i nostri e quelli appoggiati in collaborazione con Via Larda, più altre strutture di appoggio per le dimissioni. Quindi abbiamo avuto un momento di particolare criticità, anche in ambito regionale, forse la nostra realtà biellese ha scontato una copertura vaccinale un po' inferiore rispetto alla media regionale, probabilmente qualche altro elemento relativo a una particolare attenzione dei nostri pazienti. Il fatto sta che abbiamo avuto un numero di ricoverati rilevante e ha imposto una rimodulazione significativa delle attività, in linea con quelle che sono state le disposizioni regionali del DIRMEI. E quindi avevamo ovviamente per la prima volta la necessità di rispondere alle esigenze sia dei pazienti Covid, sia dei pazienti non Covid, in quanto le attività non sono state bloccate dal lockdown, quindi per la prima volta abbiamo avuto da fronteggiare due linee intense di attività. Dicevamo, nelle scorse ore sono arrivate alcune sollecitazioni da parte del sindacato CGL, in particolare in riferimento alla situazione del personale. Contratti e stanchezza ormai accumulata da tempo. Le sollecitazioni del sindacato e la preoccupazione che è stata espressa, noi la facciamo ovviamente nostra, noi stiamo procedendo con una politica di riorganizzazione sia in termini qualitativi che quantitativi delle piante organiche e questo la stessa CGL ne ha dato atto nel corso delle ultime riunioni. Naturalmente non dobbiamo allentare la presa, quindi procedono le acquisizioni di personali, concorsi e nello specifico stiamo valutando come operare eventuali rinnovi al termine appunto, come diceva lei, del semestre dove si farà un po' il punto della situazione e si avrà come dire più chiarezza su quale sia lo stato di emergenza del paese e della nostra azienda. Tutto dipende dalla situazione generale e nazionale. Allora noi abbiamo tra l'altro visto i sindacati e durante la presentazione del piano di rilancio ASL partecipare in modo attivo. Sì, infatti credo che sia un ruolo importante quello svolto dai sindacati e tutela dei lavoratori con una critica costruttiva che noi sempre recepiamo e quindi in quell'occasione si erano mostrati favorevoli alle nostre azioni, al nostro piano di rilancio perché chiaramente è un piano che testimonia l'attenzione dell'azienda per i lavoratori e per la sanità della nostra azienda, della nostra ASL, della nostra provincia.